Ha riaperto le porte la chiesa di Saint-Etienne du Rouvray, vicino a Rouen, poco più di due mesi dopo l'uccisione di padre Jacques Amel, da parte di due giovani jihadisti che si sarebbero ispirati all'ISIS. Le campane della chiesa sono tornate a suonare per una folla di persone, cattolici, fedeli musulmani, laici, una comunità ancora sotto sciocco dopo la barbara uccisione del 26 luglio scorso, ma che sembra uscita maggiormente coesa dalla tragica esperienza.